salve a tutti ragazzi bentornati in questo mio nuovo video io sono nico farmer 00 e oggi sono qui per mostrarvi la la fresatura del terreno prima della semina dei pomodori la giù c'è mio nonno che sta finendo di fare manovra e ha dietro attaccato una fresa stiamo presando questo terreno per poi piantare appunto come già detto i pomodori questo terreno in precedenza è stato arato solo che io l'ho filmato perché non ne valeva la pena perché è stata una lavorazione molto veloce abbiamo messo circa mezz'ora a farlo quindi non l'ho registrato però ora vi farò vedere la una fresatura come vedete il mio donno si è avvicinato il trattore che sta guidando il piatto 500 qua indietro è attaccato una classica fresa per appunto per la preparazione della semina ovviamente questo attrezzo come come una dita come molti attrezzi viene azionato dalla presa di forza che fanno azionare come già vedete quelle quelle zappe che girando e tagliano il terreno in parti più piccole siccome mio nonno si è fermato per andare a bere un po d'acqua ha lasciato il trattore in questo modo per farvi vedere a voi come come gira il cardano per farvi vedere da vicino come gira il cardano e come girano le zappe giù sotto vedete adesso il nonno è andato un attimo a casa a bere ma che ritorno continuerò questo video vediamo tra pochissimo ragazzi beh perfetto il nonno è rientrato è ritornato a vita di berevacco quindi posso continuare con il suo video beh da da dietro potete ammirare meglio le particelle di terra che vengono sminuzzate dalle zappe mentre girano vengono ridotte in questo modo vedete che sono ottime particelle per la semina beh ragazzi io con questo chiuso io vi ringrazio per la vostra attenzione vi saluto e ci vediamo prestissimo in un mio prossimo video ciao ciao